Salve a tutti ragazzi e benvenuti da CIM in questo nuovo video di Persona 5 Royal Vedi cosa facciamo? Oh che bellino! Facciamo oggi, affronteremo Shido finalmente, dopo aver inviato la lettera, appunto gli ruberemo il cuore Quindi niente, ci raduniamo per inviare la lettera di Shida Ora non dobbiamo fare altro che inviare la lettera di Shida Forza, mettiamo fine a questa follia Invia lettera di Shida E adesso godiamoci il tutto Allora, come se ne vediamo la lettera di Shida Ma non è vero che la lettera di Shida E' la lettera di Shida E' la lettera di Chida E' la lettera di Shida E' la lettera di Shida E' una lettera di Shida Sì, sono state fatte Tutti i fattori è fatte Ah? Sì, vedete Se questo, faccio... ... ... ... Grazie per la visione! 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 Grazie a tutti! Grazie per la visione! 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 C'è un po' di rispondimento, e mi sento davvero assicurato! Sì, potrebbe essere un po' di rispondimento? C'è 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 un po' di rispondimento? Non può essere. C'è un po' di rispondimento? C'è un po' di rispondimento? Non è vero, non è vero, non è vero. Non è vero che non mi senti qui, ma non è vero che non mi senti qui. Non è vero che il soggetto di un soggetto. Oh, Mishima? Perché mi senti qui? Il ragazzo è deciso di essere giusti. Mi ha fatto la proposta. Non mi senti. Grazie a tutti. 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 Potete evitare il 20%. Vediamo che questa è l'abilità sacra, che non ne abbiamo. Allarmi, pioggia, non cazzo, ok. Questo ha un nemico, mi va bene, perché ce l'abbiamo poco, però medio. Vediamo se abbiamo qualcosa di meglio. Pesante ha un nemico, ok. Vediamo un po', vediamo un po', controattacco, questo recupero 5 SP durante ogni turno non è male, perché comunque è buono. In automatico, ottimo, hanno gli attacchi elettrici, sì, è un buon passio, però adesso abbiamo bisogno di altro. Allora, possiamo farne solo uno. Vediamo, vediamo cosa fare, vediamo cosa fare, è dura pensarci, però penso questo, presente, vai. Perfetto, procediamo, ed è fatta, adesso andiamo a fare l'altro, ok. Comunitatore scuro, ta ta ta, ciao. Che bello, siamo molto avanti con le creature, sono contento. Ok, perfetto. Oh, un altro passivo, vediamo che c'è dato di passivo. Aumenta le scienze, difinge alterazioni negative, con pioggia neve, ce la puoi tenere. Ok, questo qui cosa fa? Uccide i santinamiti, i miei comiti da paura, purtroppo non l'ho preso, mi dispiace, ma non mi interessa al momento. Questo invece cosa fa? Danno divino pesante a tutti, direi che ha vinto, danno maledetto pesante a tutti, chance media, media, non c'è facciamo niente, ok, perfetto. Poi, l'altro è questo, con questo, e facciamo il 58, perfetto, andata. Ottimo, perché l'altro era, ah, è sempre lo stesso, ok, e facciamolo, vai. Aumento lasciante l'uccisione istantanea, è bello se mi facessi vedere cos'è. Divente le costi di ISP, le abilità elettriche, divente le costi di abilità sacre. Eh, vabbè, veramente l'uccisione istantanea, vediamo cosa abbiamo. Sicuramente Amoana lì dovrebbe essere istantanea. Vediamo se abbiamo qualcosa qui, potenza e abilità sacre. Questa è la potenza del corpo. Di Peter 5, ogni turno ha l'imboscata, eh. Ormai l'imboscata ne facciamo più. Interessante il critico. Questo qui, ottimo. Vedete, ovviamente, dovremmo prenderlo, eh, perché abbiamo poche, però proviamo questo. Assorb SP da un nemico, assolutamente. E danno sacro pesante, è un solo nemico. Ottimo. Anche se mi sarebbe piaciuto prendere elettrico, però abbiamo il nostro, amico, dai. Vediamo cosa salta fuori. Precediamo. E siamo a posto, vai. Ottimo. Bene, bene, sono contento. Ah, adesso siamo avanti, dai. Tutto il 60 dove non ve l'ho finito. Ci guardo, eh, però. Sono abbastanza sicuro che il 60 li abbiamo finiti. O poco ci manca, insomma. Questo qui, benissimo. Oh, ma tu mi vizi. Allora, rivoluzione, aumenta le chance di critico di tutti e tre, che non è male, per carità. Però, allora, danno fisico grave è un nemico, potrebbe essere buono. Dallo sacro. Ecco, chance media che questa abilità sacra uccida. E abbiamo preso... Non abbiamo preso un cazzo. Questo cos'è? Chance media che questa abilità sacra uccida tutti i nemici. Andiamo a sostituirla, così ne abbiamo più possibilità. Perché se ce ne sono molti, la chance aumenta rispetto a uno. Questo cos'è? Aumenta l'attacco di tre, invece questo aumenta la chance di critico di critico. Prefisco questo, grazie. E a posto. Andata. Adesso abbiamo questo qui nuovo, che potrei fare un 61. Così siamo proprio a posto. Andiamo a fare anche questo, così il 60 sono abbastanza sicuro di essere avanti, diciamo così. Allora, chance media che questa abilità sacra uccida tutti. Media. Danno sacro pesante a un nemico. Perfetto. Danno divino pesante a tutti. Paura, risucchio sorbe. Ecco, proviamo. Dai, vediamo cosa succede. Uno spettacolo. Uno spettacolo. Procediamo. E vediamo. Perfetto. Sono re. Mi fa piacere per te, insomma. Ma porca vacca. Ecco qua. Ammira la potenza inalata. Quanta roba facciamo. Allora, questo qui cos'è? Aumento al santificio congelamento, che potrebbe essere buono. Annulla la resistenza al ghiaccio di tutti i nemici. Ghiaccio pesante è un nemico. Ghiaccio pesante è a tutti. No, a tutti no, perché dopo è un casino. Concentrazione è buono. Danno dal prossimo attacco magico più che raddoppiato. Danno divino pesante a tutti. Però è un casino. Gava è un nemico. Pesante è un solo nemico. Potrebbe essere buono, come no. Però per il momento magari togliamo questa, dai. Ok, siamo a posto. Ghiaccio possiamo fare alto, ma dubito 65. Ci posso provare. Perfetto. Ottimo. Vedete che alcuni 60 ce n'erano. Diventa costa di esempire le abilità curative. Diventa anche il minimo nemico. Allora, danno divino pesante a tutti. Stiamo già male. Non abbiamo un cazzo qui. Allora, forse è meglio cambiare. Aumenta il danno tecnico. Questo, se abbiamo una roba proprio buona, buona, può convenire. Un alleato caduto di pistilla. Questo costa tanto. Vedete, già è dimezzato perché costa pochissimo sta roba. Potrei provare. Perché sono cose che costano proprio tanto. E avere che dimezzano uno di vito solo a questo. Non è male. A me la scia di effigiene congelamento non mi interessa. Però questo magari sì. E basta. Danno divino pesante. Dai, facciamo così. Mi sembra un'ottima persona questo. Perfetto. Andata. Mi sei tanto piaciuto. Ottimo. Dai, dai. Che almeno non mi ha speso poco e niente per fare sta roba. Ottimo. Rimonta. Ottimo. E basta. Va bene. Mi va anche bene. Allora, 65. Vedete che c'è 62. A tuo punto ne mancavano tanti di 60. Eh, porca vacca. Vabbè. Facciamoli. Dipende il corso di sapete e la verità curative. No, basta. Deve avere un nemico solo. Poco pesante. Ha un nemico. Poco pesante a tutti. No. Danno un medio. Basta con questo medio. Danno pesante. Ha un solo nemico. Danno divino pesante a tutti. Rimonta. Salta il 20% di effetti. Il 20% è tanto. Sarà l'automatico e l'inizio di battaglia. Che sono due cose buone. Però io non mi ricordo assolutamente che cazzo sia uno, che cazzo sia l'altro. Però va bene, dai, mi porta. E anche questa è andata. Vai. Perfetto. Mi sei piaccionato. Bene, bene, dai. Mi hai fatto in un bel po', eh. Non c'è male. Guardate lì quanto salgono. Aretto malefico. Cos'è? E tra le salti di infigione altre azioni negative, che non le abbiamo. E quindi le togliamo. Questo qui cosa fa? Aumenta le salti di infigione paura. E non l'abbiamo. Quindi la togliamo. Questa qui cos'è? Danno un fisico colossale a un nemico. Ma un fisico pesante a tutti. Danno un medio, due, tre volte. Però colossale tanto di più, eh. Ok. A posto. Vediamo se c'è altro. 67. Qui va bene. Ok. Perfetto. Vai. Diventare qualsiasi delle abitabilità curative? No. Potenti di abitabilità che prendono di mila uno solo. Allora. Hanno pesante a un solo nemico. Giaccio pesante a un nemico. Hanno avvento pesante a un nemico. Beh, non è male. Danno un sacco pesante a tutti, no. Danno un sacco pesante a tutti, no. Sobhp, no. Pico colossale un nemico. C'è l'effetto di attacchi fisici. E l'effetto di riflette. Cioè. Questi sono cumulabili. Ed è una figata. Perché arrivi 35%. Ah, non cumulabili. Scusa. Ho detto proprio una caccata. All'inizio proprio. Se ne è bravo. Beh, a metta la chance di critico. Penso che valga meglio questo. Perfetto. Procediamo. Peccato che non sia cumulabile. Non 35%. Va bene. E anche lui. È andata. Ottimo, ottimo, ottimo. Veramente ottimo. Sono contento. Vai. Perché guardate lì. Da 60 qualcosa. Presenta 72. Ok. Questo qui. Danno un nuculare pesante a tutti. Amplifica potente avvitae nucleari. Danno un nemico pesante a un nemico. Luculare pesante a tutti. No. Facciamo così. A meno che c'è più. Ha più senso. Una barriera che rispinge gli attacchi fisici verso una retriculata da panico. E siamo a posto. Poi vediamo cos'altro c'è. 78. 66. E ci manca. C'è anche un 63 che ci manca. Facciamo 66. Mamma mia. 60 ne mancavano tanti. Avete lasciato di infliggere le folgorazioni su nemici alterati. Nemici alterati, no. Potete vedere. Ma mai ne facciamo solo. Pesante. Ma hai detto pesante a tutti. A un solo nemico. Mi do pesante a tutti. Assurba SP. Che è da provare. Un nemico. Salti 15%. Potenza di avvitare del vento. Non ne ho neanche mezza. Ripita il semplice degli HP massimi durante ogni turno. Questo in automatico. E questo in automatico. È andato durissimo. Vai. Garudu. A posto. Andata. Perfetto. Vediamo l'ultimo. E poi vediamo un'occhiata a cosa abbiamo. Aspetta. Quello dovrei già avercelo. Che l'avevo preso mi sembra. Ma la cava. C'è ce l'ho già. Quindi non c'è. Sarebbe avercelo. Questo cos'è? Aumenta di molto l'illusione delle abitano colari. Assolo debole. Quindi sarebbe buono. Non è fisico meglio due o tre volte. Ok. Che abbiamo. E questa è la cura. Gli animano un alleato. Ok. Gli animano un alleato. Mi può anche dare bene. Fisico pesante a tutti. Senti. Media. Media. Trattini. Ok. Perfetto. Vediamo un po'. 70. No. 69. Siamo sempre sui 60. Quindi andiamo a vedere. Potenza di un nemico solo. Danno fuoco pesante a un suo nemico. Devento pesante. Ok. Danno pesante a un nemico. Danno sacco pesante a un nemico. Sacco. Mi piace. Gli animano un alleato. Mi piaceva anche questo. Aumentare le chance di critico. È ottimo. Perché spesso mi capita di fare solo attacchi fisici. Aumentare le chance. Col critico. Lo sapete che dopo andiamo in tecnico. Il tecnico è al 100%. A stun. E possiamo dopo fare la rapina. E quindi insomma. Mi piace. Ok. Clicciamo. Basta adesso. Vediamo cosa manca. Ok. 74. Ottimo. Allora vediamo cosa fa questa militare. Ripista completamente di tutti gli alleati. Ripista completamente di HP di un alleato. Perché 18. 18. 18. 36 per farne due. Forse è meglio. Perché. Potrebbe essere meglio quella. Perché quando confrontiamo contro i boss. Difficilmente fa danno singolo. Può farlo. Per carità. Però spesso fa danno da massa. Cura tutte le alterazioni. No. Abbiamo gli item. Per far questo. Ripista l'8% degli HP. ISP massimi dopo ogni battaglia. L'8% e tanta roba. Mentre di molto. L'uso delle abilità. Pioggia. Via. Cazzo. Questo è buono. Ok. Direi che basta così. Oh c'è 63. Scusatelo. Vuol dire che mi mancava. 63. 50% di danni. Che sfruttano. Debolezze nemiche. Aumenta di 50% di danni. Io vado sempre di debolezze nemiche. Difficilmente attacco senza aver quello. Allora. Dando fuoco pesante a un nemico. Avanti pesante a un nemico. L'attico medio a un nemico. Possibile. Ti lo tieni. Avanti pesante a un nemico. Vabbè che abbiamo Ryuji per questo. Dando sacco pesante a un solo nemico. Dando divino medio a tutti. Aumenta di molto l'illusione della abilità di fuoco. Blocco. Potete la abilità di ghiaccio. Se vi interessa. Ho un'interessante critica. Direi che è andata. Vai. Perfetto. Adesso basta. Non abbiamo più di persone. Quindi sì. Oh signora. Si vedono. Sì. Ed ecco qua. Perfetto. Cazzo. Mi ha fatto una marea. Una marea. A dare il 68. Allora. Rimonta mi sembra che era molto buono. Cioè. Beneficione di effetti di attacchi fisici. Ok. Qui non ne ho qualcosa che rifletta. Vediamo che il danno fisico colossale è un nemico. Fisico pesante a tutti i nemici. Basta chance. Fisico pesante. A tutti i nemici. Basta chance. Facciamo. Tiriamo almeno quella. Cosa fa questo? Riflette gli attacchi psicocinetici. Cialippa. Che roba buona. A un nemico. Scusate. Con il sale. Cosa vuole questo adesso? Dalla fisico grave a tutti i nemici. Ossia. Però con lo sale è meglio. Lo sappiamo bene. Ok. Fatto. Basta. Andiamo a vedere. Di far così. E vediamo cosa c'è. Qui non c'è niente a registrare. E qui. Per livello. Vediamo cosa abbiamo. Cosa manca. Guardatevi se non avevi visto. No. Mi sono sbagliato. Madonna. Mi ha fatto un sacco. 50. Con questa qui ce l'ho. Perché mi sembra. Vedete. Lo capisco da cosa. Che ha tutte quante le cose piene. Quelle che abbiamo fatto noi. Lo prendo perché così mi viene fuori il costo. Quindi sono a posto. Questo è qui anche perché c'è il costo. Mi ha fatto questo. Ah. Ah. 62. Poi non l'ho fatto. Sono il solito ricoglialito. Vabbè dai. Non importa. Adesso ci mancano parecchi di 60. Però dai. Non sono. Questo non l'abbiamo fatto. Vedete che questo si capisce che non l'ho fatto. Perché guardate qui tutto vuoto. E qui di niente. Vabbè dai. Sono. Sono contento. Diciamo che fino al 60. 61 le abbiamo fatte tutte. E mi va bene. E ne mancano 2. 3. 4. 5. 6. Fino a 69. E ne mancano solo 6. Quindi sono contento. Adesso mi vado a prendere. Mi guardo un po' a rostra di persone che ho un attimo. E mi sistemo. Mi sistemo e vi dico cosa prendo. Perché qui di persone. Non. Questo mi può andar bene. Questa mi va bene. Perché era la mia. Questa magari no. Ci penso. Questa. Potrebbe essere buona. Vedo cosa prendere. Vi dico. Dai facciamo così. Bene ho fatto. Adesso vi faccio vedere. Così siamo a posto. E possiamo andare alla carica. Facciamo vedere le persone che ho preso. Sono queste. Vabbè queste ce le abbiamo già. Queste ce le abbiamo già. Queste ce le abbiamo già. Ho lasciato questa. Questa. Riflette i colpi. Blocca i fuoco. Riflette la psico. Ed è resistente al. Insomma. Quello. Mi viene in mente come si chiama. E altri. Perché assorbono. Riflettono. Sono molto resistenti. E quindi ho voluto prendere più che altro. Per le resistenze. E anche per gli attacchi che hanno. Quindi sono molto. Molto interessanti. Cose che assorbono. Dai. Sono messi bene. Spero di non averlo. Vedete. Questo ad esempio. Fantastico. Assorbe. Resistente. Resistente. Assorbe. Debole. Assolo al ghiaccio. Che comunque. Non. Aumenta il salto di critico. Cioè. È messo bene. Anche questo. Vedete. Resistente. Assorbe. Resistente. Resistente. Cioè. Riflette. Questo che è fantastico. Se trovo qualcuno che. Mi dà del fuoco. Gli do questo. Gli do da indietro. Cioè. Sono tutte cose. Che. Mi interessa. Parecchio avere. Quindi. Vado con quello. Però adesso. Più. Quello che c'ha più. Dove. Cose passive. L'effetto di attacchi. Psico. Questo è fantastico. Chance. Deve. Non era questo. Assorbe i danni. Fertile. Ferite. Di attacchino. Dove cazzo. È quello che ne è. Di più. Arrivo. Questo perché. Aumento. La bella. L'illusione. Questo maracudi. Automatico. E quest'altro. In automatico. Che mi interessa. Così almeno. Iniziamo già. A combattere. Con queste. Belle stat. Va bene. Facciamo così. E vediamo. Speriamo. Che vada tutto bene. Salviamo. E vediamo. Come vanno le cose. Che non vedo l'ora di affrontare. Il personalo. Che prendo. Proviamo così. Per il momento. E arrivo. Scusate. Ecco. Qui ci siamo. E niente. Facciamo così. E vediamo. Come va. Andiamo pure. Possiamo teletrasportarci. Adesso non ricordo. Dove esattamente. La sala centrale. Se vado qua. Devo fare un giro atomico. Dov'è il punto. Come si vede meglio. La sala centrale. Dovrebbe essere qui. Mi ricordo più. Dove cacchi devo andare. Se devo essere sincero. Allora. So che devo arrivare qua. Che è la sala centrale. E devo prendere l'assensore. Che dovrebbe essere la stessa cosa di qua. Ok. Andiamo qua. E vediamo come fare. Perché mi sono perso. Vabbè. Andiamo. Quindi devo andare dritto qua. E poi qua. Ok. Ci siamo. Perfetto. E vediamo come fare. Benissimo. Allora. Il mostro. Mi sembra che abbia tre o quattro fasi. Quindi le prime due dicono. La guida dice. Prendetevi alla comoda. Perché serviranno gli HP SP. Quindi attacchi fisici è meglio. Godiamoci la cazzi. E vediamo come fare. Grazie a tutti 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 Ma porca vacca Allora Ripiste l'allenato Caduto? No Sacco pesante È un nemico Sacco pesante È un nemico Possibilità di fogo 321 321 È un nemico Foco pesante È un solo nemico Perché questo è danno a tutti Quindi vediamo Anche se concentrazione Mi stuzzicava di più Vai E qui facciamo E qui facciamo il solito Ok E questo Lui è messo male Porca vacca Allora 18 Ripista Completamente Anche più di un leato Vai Non posso rischiare Ma meno male Perché se no sarebbe morto Ok Oh Futaba grazie Porta vitalo Perciò Il gruppo è aumentata E quindi Facciamo Ancora così Possiamo fare così Vediamo un po' Come altro Scusate Perciò 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 Perfetto E adesso Mi piace tanto Di più Vai Eh Mille tre L'ha sentito Proprio da grande Facciamo questa Carica del prossimo Attacco fisico Quindi ci diamo Con quell'altro E proviamo Poi vediamo come va Siamo messi male Perché lui Siamo messi male Vediamo così Bisogna Attaccare Ok Seconda fase E lui È diverso Perché adesso Si chiama Sacrificio umano Ali del sacrificio umano Ali del sacrificio umano È diverso Resiste La magia Quindi attacchi fisici Mi va benissimo Vai Ottimo Lo sapete perché Sono contento Perché gli ho appena potenziato E' un giro Attacco fisico Eccolo qui Dov'è questo qui Danno fisico Con le sale Un nemico Vai Mille cinquecento Come sono felice Allora Vediamo un po' Niente Intanto Questo facciamo Attacco fisico Perfetto E si trasforma Di nuovo Quindi abbiamo fatto La fase E si incontra E' proprio volata Adesso Vediamo come si chiama Si Si chiama Tomba del sacrificio umano Vediamo un po' Tomba del sacrificio umano Non hai nessuna Debolezza Nessuna cosa particolare Vai Duecento Fisico pesante Grave Cioè Trocento E qui facciamo così Vai Perfetto E qui facciamo questo qua Da vento pesante Lo so Demico Vai Quattrocento Ok Adesso curiamoci Dai Vediamo un po' Vai Facciamo ancora così Scriviamo Devo uccidere Perché se no Riesco di curarmi Ok Riesco di curarmi Non voglio rischiare Perché rischio di non potermi curare Perché solo ammazza E' un casino Quindi Guardia Si Ok Ripristina Completamente Di tutti gli alleati Costa tanto Però No Al fine mi serve solo questo A me Di uno solo Vai Perfetto Non ho dovuto rischiare Perché è un casino Beh Lui si è andato benissimo Lui si è protetto Quindi va bene 271 Vai Perfetto Eh non è finita Ok Scriviti Ma Scriviti Scriviti La Beh, non è così, ma... ... ... ... ... ... ... ... Non c'è quello che si tratta, ma non c'è nessuno, ma non c'è nessuno, ma non c'è nessuno, ma non c'è nessuno. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Ok Però mi sono curato E questo facciamo così Vorrei mettere l'elettricità Vai E vai con questo Perfetto Ha restito l'attacco Però l'ha bagatato Ha restito l'attacco Perché ho quell'abilità Ma porca troia Va bene Eh vabbè Eh vabbè facciamo così Perché sennò poverino Ci fa malo E vediamo un po' Carica E speriamo di riuscire a usarla Vediamo con l'attacco fisico cosa facciamo Poco è poco Poco è poco Oh finalmente Futaba è intervenuta Caricato e concentrato Caricato e concentrato Cazzo Vai Questo l'ha sentito la grande E adesso la seconda fase Oh porca troia Ok guarda cosa fare E arrivo Eh Un casino Allora Speriamo di riuscire a arrivare all'altro Ok Vai 207 Vai 400 Già va meglio E tu cura tutti Ripisti da no Rianimano un alleato Ripisti da competenze Di tutti quanti Eh sì Siamo in tre Messi male Quindi penso che sia giusto così Ottimo Eh perché lui fa due attacchi Sono anche stronzi Quegli attacchi che fa Vai 179 Ok Vediamo un po' Vai con questo Vediamo cosa succede Io non faccio con un cazzo Dove proprio dirlo Eh anche Ryuji Adesso c'ha La difesa super mega avanzata Così perché non voglio rischiare Vediamo con l'attacco fisico Se può fare qualcosina Perché ho Il critico aumentato Però non è detto Eh mi sa che il fisico Qui va meglio Eh porca troia C'ha anche un bambore E' un attacco ancora Eh vabbè dai Eh sì Il fisico va molto meglio Tu fai così che è meglio Perfetto Eh perché se lui si è aumentato Le varie difese Sennò 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 è un bel casino Eh no Lui dai C'è un po' stronzo Eh ciao Eh ciao Eh ciao Eh immagina Coglione Allora Vai perché se no Questo se me lo uccide Sono finito Adesso Oddio Allora Spendiamo così E spediamo che Stavolta riesco usarlo No Morgana è messo ancora così Forse no però Allora Vediamo un po' Vai Ok Vai Eh mi ha preoccupato Un attimo Dovrebbero bastarti Le spi Eh però Vediamo Eh adesso Finchè c'è sto cazzo Di Allora 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 vai Si è tolta la difesa Oh E qui facciamo così Perfetto Ce la facciamo A ripistinarci Dico Vattelo poi Non lo so Vai Vai Grande Mi sei piaciuta Mi sei piaciuta Eh ne ha boccato su lui Eh cazzo Allora Allora calma eh Perché io c'ho questo Vai Perfetto Perfetto Vai E tu hai questo Ma ce l'abbiamo fatto Per resistere Per poco Guarda però Dai È veramente potente Dai Difesa Ristabilita 164 vai 162 O Se fai qualcosa che te, che mi aiuti. Sì, allora, devo capire cosa fare, perché non è che ho tanta scelta, 242, ha un ghiaccio, perfetto, allora, qualcosa che rispiga il ghiaccio, ce l'ho vero? Resistente al ghiaccio, no? Debole no, mi voglio ammazzare così, debole no, assorbe ghiaccio, perfetto. Polveri di diamanti, oddio, ci posso provare, però, per me non serve un cazzo. Beh, 300. Allora, questo abbo di cura no, però, per un altro polveri di diamanti potrei riuscircela a fare. 300, ottimo. Adesso mi curo, con un oggetto mi conviene. Allora, vediamo un po' HP, adesso trovarli, ci metterò a 30 anni. Allora, HP, 50, ripistina a 50, ma faccio un cazzo, forse quelli più alti sono qua. Adesso ci metterò a 30 anni per riuscire a trovarlo. Ripistina del tutto l'HP di nuovo alleato, vai. Perfetto. Attacca di fuso del giusone e tutto il resto, vai. Ammai e lo sgoccio. Bellissimo. Mi sei piaciuto tanto. Ah, dai. Ah, dai, non fa poco. Vai! Bene! Fatta! Dio sinodato! Adesso godiamoci la cazzo! Ma... ma... ...i... ...i... ...di... 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 ... ... ... ... ... Oh... Non mi sembrava che non mi senti, ma che non mi senti. Non mi sembrava che sia bene. Mi si può perdere, non mi sembrava. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.